O vedi, o vedi, o vedi che ce li sta? Ce li sta, eh? È questo, è questo! A pezzata e merda! Vieni qua! Ha schifoso! Ha schifoso! Ha schifoso! Ha schifoso! Vieni qua! Avvio! T'ha corso un faccia? Sì, fra. Ha strillato anche. Oh! C'è ancora te? Sì. Perché hai cambiato? Eh, pure te hai cambiato schifo. Oh! Che c'è? È arrivato a... Forse corregli addosso non è stata una dei mostri. Oh! Ancora, ancora, ancora! Sta dove sta? Sta qua, eh? A pezzata! Oddio, oddio! Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? C'è una pistola? Dove stai? C'aveva armacete, c'aveva armacete. Adesso, sto in un... Oddio! Oddio! C'aveva armacete. Dove stai? Eh, che cosa? Eh, non so. Cidua! Te dove stai, io? Eh, sto nell'altremondo tutto nero a sparare a gente. Oddio, oddio, oddio! Che vuol dire sparare a gente? È diventato... Rianima, rianima! È diventato Call of Duty! No, fra, ma che sta succedendo? Ma chi è? Ma io non te vedo! Ma che è successo? Cioè, io non lo so tu dove sei. Ah, quindi sto qua da solo. Ehi! 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 Avrà, avrà, ma... Avrà, è diventata una cosa brutta, sto coso. Avrà, io qua c'è stata una torcia, ma non sarei mai te. Sì, sì. Sì, perché... Stai a strisciare? Sì. Fermate! Dove stai? Ah, grazie. È stato bruttissimo. Ma che stava a succedere a te? Ma io non... Ma io c'avevo solo i strilli dietro. C'è stanno uno, eh. C'è stava uno davanti, eh. Dove? Lo vedi? C'è stata la torcia? Via qua! Pezzo de' merda! Pezzo de' merda! Coglione! Lecca me le palle! Mi devi succhiare le palle! Duvido! Pezzo de' merda! Coglione! Ma sta a scureggiare poi, ma che c'ha? Avrà, qua sta in altri pistola... Oh! Qua sta in altri colpi. Sì, in tutto ciò, io non so dove devo posizionare la runa. Cioè, devo trovare qualcosa del rituale. Sta a maviare male e basta così. Mi sono castrato, non mi fa più passare. Non mi fa più passare. Questa uno catorcia qua. Avrà, sono incastrato, non posso più ci... Dove, dove, dove? È qua, non posso più ci... Dentro della stanza di prima, perché non mi fa... Non sei te, porco Dio! Non mi fa più scavare qua il cancello. No, no! Un'altra volta nell'oltretomba. Io non posso uscire, porco de' Dio! Ok, sono riuscito a ci... Ho dovuto passare... Cioè, ma io te vorrei far vedere che cazzo... Oh! Oh! No, strilla, dai! Eh. Oh, sei te? Chi? Questo qua che... No. No, non penso. Oddio! Eh, sì, sì. Dove stai tu? Io mi sto a sentire male. Io sto... Corro avanti e indietro a un corridoio. Oh! Lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo, lo sapevo. Dove sta sta merda? È la troia, questa qua. Non lo... Sicuro è questa qua, sta troia de' merda. Questa è un homofra. Ah. Te dica la verità. Te lo giuro. Oh! No, no, no. Troppi, troppi, è sparato. No, no, sta ancora per terra, sta ancora. Io ho sparato. Grazie, bravo. Io sto a sparare. Vai via, pezza de' merda. Se n'è nata, se n'è nata. Guarda, ho dovuto far liberare la troia. Tu lo so di che, porco dio, sta una cazzolata. Ma te hai sparato troppi corti, tu sviso. Oh! Ha subito, me sa, eh. Sì, ma c'è sta ancora, c'è sta ancora. Ma perché abbiamo liberato un coso del genere? Io ti giuro che non capisco. Vabbè, apposta. In teoria l'abbiamo mannato via adesso. E Rubino l'ho trovato comunque. Ho portato via Fran, c'ho la pistola adesso. E' schifo. Oh, ma che cazzo sei? Eh, ora mi ha legato. Ah Fran, ma c'è sta una che mi ha legato. Mi pare che l'altra roba stava su, sia lo specchio. Eh, cazzo, porco. Mi sta a leccato, mi sta a leccato, mi sta a leccato un'altra volta. Ma lascialo stare. Ti lecca, eh, porco dio, me lecca. Io dovevo spammare il tasto per levarlo. No, ecco è. Pam. Oh, dio, conti. No. Eh, dai, mi ha riportato una stanza. Dai. Non mi piace di questa puttana. Oh! Ma si è fatta. Oh! Ah! Oh! 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 Grazie a tutti.